buongiorno inizio questo vlog diciamo così mi sono già preparata vi mostro un po quello che faccio in mattinata quando non ho tante cose da fare non ho tanti contenuti da registrare quindi mi dedico più più alla polizia di casa ultimamente mi rimane veramente un po complicato perché il pancino qui sta iniziando a crescere mi sposto nell'altra stanza dove c'è anche lo specchio vi faccio vedere e in generale questa gravidanza la sto accusando veramente tanto un bel po di più rispetto a pierre anche perché ho lui adesso che è molto attaccato e viene spesso in braccio cerco di non prenderlo però ogni tanto anche mi dispiace quindi ok poi arrivo già alle tre di pomeriggio che ho la schiena così cioè immaginate tutte le ossa così comunque non ci pensiamo mi sono data un tono ragazzi ho fatto un makeup semplice questo è proprio il mio everyday e la mia piega del cuore io adoro queste onde morbide queste beach waves anche se raga devo andare a spuntare un bel po i capelli perché sono veramente impegnativi potete capire che mi è successo ieri ero con i miei in macchina pierre vabbè stavo dietro io davanti siedo apro lo sportello chiudo e mi rimangono i capelli incastrati tra lo sportello perché vado per girarmi a mettere la cintura e savo tipo così cose mie assurde quindi devo dare una spuntatina ai capelli devo andare a fare uno shopping primaverile estivo perché non mi entra più niente cioè raga è imbarazzante adesso quando adesso vado nell'altra stanza vi faccio vedere e devo andare girando con i pantaloni un po' slacciati perché appunto non mi entra niente tutto quello che ho elasticizzato fa un po' male perché mi taglia un po' la pancia quindi non posso sfruttarli e è situazione drastica perché vado avanti con felpone rubate a domenico questo infatti è suo e capi un po' così random vorrei anche optare per ad esempio mettere dei toppini con delle maxi camice over che sono bellissime vanno anche tanto in questo periodo ma fa freddo cioè fa veramente freddo tra l'altro ho sentito anche che verrà un'altra perturbazione non lo so quindi non lo voglio sentire non lo voglio sapere che cosa faremo oggi un po' di pulizie vediamo fin dove posso spingermi perché non vi ho mai fatto un home tour per via della privacy adesso vi faccio vedere qualche corner di casa qualche stanzina così e niente that's it direi di iniziare allora vabbè questa stanza è sempre un po' più buia perché la luce sarà all'altro lato dopo quando tramonta il sole si espone un pochino di più comunque questa è la situa ragazzi vabbè allora questi sono pantaloni che qui ad esempio mi vanno un po' larghi e mi scendono e questa è la situa attuale questa è la maglia di domenico come vi ho detto perché è più over e questo è il pancino considerate che il 14 di maggio entro 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 al sesto mese e quindi direi che ci siamo dai come dimensione tanto questo esplode tutto intorno all'ottavo fino al settimo mese ottavo almeno compiere è stato così le seconda gravidanze di solito sono un pochino più spinte sin da subito però vediamo un po' com'entra questa le femminucce sono un po' così devo rifare anche il letto di Pierre dopo devo togliere tutto e passare un po' anche l'aspirapolvere e togliere un po' di polvere che si è depositata qui sopra la stanzetta di Pierre ve l'avevo già fatta vedere vi avevo fatto proprio un room tour dedicato mi ricordo l'unica cosa che manca come in tutta la casa del resto sono le tende questo poi l'abbiamo aggiunto in un secondo momento questo Kallax di Ikea molto comodo anche se mi servono altri cubotti perché i giochi aumentano anche se considerate che io e il papà li compriamo veramente veramente pochi ma li rigalano e quindi che dobbiamo fare? questo è il suo angolo cucina in realtà gli devo proprio comprare una cucina secondo me lo farà divertire un sacco e questa qui ragazzi è la lucina per la notte che gli abbiamo comprato perché da quando dorme da solo in stanzetta avevo piacere che avesse comunque una lucina qualcosa a cui fare riferimento ed è validissima fa una luce assurda e l'ho pagata veramente poco l'ho presa su Amazon e niente quindi lui è molto contento io l'ho chiamata la lucina dei sogni e anche lui e quindi ogni volta che va a dormire appunto è molto contento poi ci spostiamo in cucina qui è dove facciamo colazione appunto sull'isola la mattina e questo qui è il mio posto mi siedo sempre qui e quando si sveglia Pier si mette lì lo mi dico solitamente si sveglia prima o si sveglia dopo di noi quindi si siede dove vuole e questa è la situazione ogni volta che Pier mangia un cornetto la quantità di briciole che fa quel bambino è assurda vabbè ma non credo solo lui tutti i bambini e ogni volta ho bisogno dell'aspirapolvere guardate qua in linea generale avendo io questo pavimento che per carità è bellissimo ma non avete idea della quantità di polvere che si vede e si deposita adesso se mi abbasso un po' cioè penso che si riesca già ad intravedere devastante però vi giuro questo pavimento è bellissimo sono delle mattonelle ingress un petto marmo nero e le abbiamo volute appunto in sala e in cucina nero perché hanno il contrasto con la cucina che è questa qui ve l'avevo fatta anche già vedere in un altro video e poi in tutto il resto della casa l'abbiamo voluto bianco con le venature grigie appena si arriva appunto all'ingresso del corridoio c'è lo stacco delle mattonelle che sono anche brandizzate e appena le ho viste mi sono innamorata qui mi sono preparata e devo mettere a posto anche qui ma credo che se progressino ancora e parlo 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 non concludo niente come prima stanza direi di iniziare appunto dalla camera da letto che credo di non avervi mai mostrato per il semplice fatto che non è definitiva tuttora non lo è devo cambiarla dobbiamo assolutamente cambiarla anche perché quello che state per vedere è la camera da letto che avevamo nella casa vecchia che abbiamo portato qui per una questione tra virgolette economica perché quando abbiamo fatto questa casa abbiamo investito su tante cose e la camera da letto potevamo lasciarla un pochino più avanti cambiarla un pochino più avanti e quindi ce l'abbiamo ancora stiamo considerando di cambiarla proprio quest'estate perché io sono veramente molto esigente non trovo il letto che mi piace non mi accontento facilmente perché entrare e addormentarmi tutti i giorni su un letto che non mi piace appunto mi dà angoscia cosa che anche questo letto mi sta dando in questo momento solo che appunto stiamo cercando anche perché il letto che voglio deve essere contenitore perché lo spazio in casa non è mai abbastanza e se vado a togliere anche questo non so poi dove devo mettere le cose quindi è una ricerca molto impegnativa soprattutto per Domenico perché ricerca lui io gli dico cosa cercare e lui cerca prima cosa direi di aprire così a vasi stas anche la finestra oggi c'è un sole bellissimo per fortuna e questa ragazzi è la mia camera da letto che ripeto devo assolutamente cambiare questa qui è una camera di mondo convenienza che abbiamo preso appunto nella casa vecchia perché era iper momentanea poi non lo è stata per una questione appunto economica come vi ho detto però a breve andrà via e andrà via anche la cassettiera infatti di proposito non ho messo lo specchio su che esce in dotazione con queste cassettiere proprio perché voglio cercare qualche specchio sapete di quelli tondi bellini o a metalluna oppure tutta intera che si sposi bene con un Veneti altrettanto bello ho visto qualcosa ma se voi avete delle info avete degli spunti lasciatemele qui sotto nei commenti qualche sito appunto che io potrei non conoscere così vado a spulciare e niente questo è il lato di Domenico questo è il mio lato anche perché Pier fino a tre settimane fa più o meno dormiva ancora lì era una delle più neutre quando l'abbiamo acquistata però ecco adesso non rispecchia più il mio gusto questo è anche il mio comodino un casino assurdo e come potete vedere penso che si intuisca è il mio perché ci sono 3000 cremine tra cui anche il Gentle in Beto questo l'ho messo a pierna notte perché gli si era gonfiato un pochino il dito aveva fatto infezione e gli ho messo quello poi qui su ho due balsami per le labbra che alterno questo qui è al miele e questo qui invece è la schiera notturna di Laneige per le labbra ed è fantastica questo è il mio lume di cartel che mi piace veramente tanto ultimamente sto riutilizzando il cuscino che tecnicamente nasce per l'allattamento ma io lo uso anche come holder come sostenitore per la pancia durante la notte soprattutto quando mi giro è veramente molto comodo anche perché prende la posizione che voglio avendo tutti questi pallini all'interno e niente appunto è comodo e devo dare anche una pulitina qui più che altro anche sotto al mobile e in generale appunto il pavimento perché i sanitari li ho lavati proprio ieri ho fatto arieggiare già la stanza quindi adesso posso procedere con il rifare il letto comunque il detto un po' casalingo non lo so è poi delle buone abitudini che quando rifai il letto al mattino ti senti proprio più in ordine è verissimo soprattutto quando fai anche arieggiare la stanza lo so io ho proprio un senso di benessere per questa cosa e adesso ci dedichiamo alla pulizia come fedele aiutante questa mattina per le mie pulizie ho questa new entry della COE un brand che non conoscevo ma che francamente sto vedendo parecchio su Amazon infatti è rivenduto proprio qui vi lascio il link in info box se volete dare un'occhiata e ve lo consiglio per due motivi prima di tutto perché l'ho già testato quando mi è arrivato infatti questa è una collaborazione con il brand ma sapete benissimo che se una cosa non mi piace non mi soddisfa non ve la consiglio e avendolo testato vi posso dire che qualità prezzo ragazzi e soprattutto qualità prezzo e potenza ci sta è ovviamente un modello che abbiamo già visto in commercio ma presenta due caratteristiche che vi devo dire la verità mi stanno piacendo molto di più rispetto all'originale una di queste è la flessibilità e la fluidità e la seconda è l'autonomia come design tra l'altro nulla da dire è veramente molto molto bella anche nei dettagli vi faccio vedere subito all'azione questo gioiellino questo modello di aspirapolvere si chiama Koe K10 è un aspirapolvere senza fili la scopa elettrica classica di questi tempi da una potenza massima di 500 watt e partiranno immediatamente 4 livelli di potenza che possiamo regolare Koe K10 è in grado di adattarsi ad ogni tipo di pavimentazione ed ha un'autonomia massima fino a 55 minuti per raggiungere superfici che solitamente non potremo raggiungere la scopa elettrica è in grado di piegarsi fino a 180 gradi con un semplice click e poi tornare al suo posto rimettendola semplicemente in posizione retta per sbottarla basta premere un bottone e tutta la sporcizia cadrà nel nostro cestino per poi risciacquarlo e metterlo in ordine lascio anche un codice sconto del 40% che trovate nel momento in cui cliccate sul link di riferimento vi basterà cliccare su coupon e la spunta viola apparirà in modo che tutto vada direttamente nel carrello ho fatto praticamente quasi tutta casa e vabbè che io sono abbastanza maniacale quindi passo l'aspirapolvere tutti i giorni e questa è la quantità di polvere di sporco appunto che ho fatto questa mattina e quando questo aspirapolvere incontra qualcosa di leggermente più grande rispetto ad un granello di polvere aumenta di velocità in automatico e dopo torna alla velocità che avevate stabilito in precedenza quindi questa cosa vi fa anche risparmiare energia piccola pausa anche perché ve l'ho detto all'inizio mi stanco molto molto in fretta la mia schiena ogni tanto dice fermati sono le 10 e 9 minuti ho finito di pulire casa anche se potrei fare qualcosa più a fondo in lavanderia ma ho ricevuto una chiamata di lavoro e non so se lo sapete però penso di sì insomma se mi seguite collaboro con diversi store diversi negozi qui in zona e uno di questi appunto vuole fare il planning del prossimo mese quindi avendo comunque la pancia posso fare qualcosa in dipperita ad esempio fare il reel di accessori e qualcos'altro e quindi niente adesso devo uscire perché devo recarmi presso questo negozio per pianificare il mese di maggio mi prendo qualche minuto anche per fare due chiacchiere con voi così prima di uscire per me è un periodo un po' così nel senso che non posso mangiare niente non posso bere tantissimo ovviamente non bevo alcolici una semia di mio però ad esempio caffè di cui io ero dipendente non li posso più bere e questa cosa mi urta perché arrivo intorno alle 3 di pomeriggio che ho proprio un crollo e mi servirebbe un po' di caffeina ma il caffè mi buca lo stomaco e mi provoca ogni tanto un po' di vomito e quindi evito potrei birlo nel latte è quello che faccio la mattina infatti accompagnato con i cereali non mi dà fastidio però il pomeriggio caffellate insomma un po' così anche il prosciutto cotto ogni tanto mi fa rimettere cioè gli unici due aspettati che io posso mangiare sono mortadella e prosciutto cotto anche la pesa di tacchino quella infatti non mi dà fastidio e rimetto mortadella e prosciutto cotto perché il prosciutto cotto sono venuta a sapere che all'interno ha anche delle spezie piccole e mi danno fastidio la mortadella ha delle spezie questo già lo sapevo è la più pesantina e a questa bimba qui non vanno bene non vanno giù quindi è già abbastanza capricciosa di suo vado avanti a verdure riso pasta leggere pollo un sacco di pollo sto mangiando in questo periodo tacchino e cose del genere adesso mi sono spostata solo nella stanza di pierre non so se capita anche a voi se avete figli ma non so a me personalmente rilassa tanto anche perché forse mi piace questo arredamento pulito essenziale vedete con qualche oggettino sparso quella devo anche stampare un bel po' di foto che ho di lui per salutarvi perché vi ho detto devo uscire però adesso mi sto prendendo qualche minutino in più solo per voi anche perché il video era dedicato sì alla mia mattinata di pulizie e non era considerata questa uscita però ecco fondamentalmente il video in sé per sé è terminato perché come vi ho detto non riesco a fare tantissimo infatti ho mia mamma che mi aiuta tanto tanto una gravidanza estiva non l'avevo mai provata perché con pierre ho avuto un invernale essendo lui nato ad aprile e credo che questa mi metterà davvero a dura prova io già di mio in estate tendo a gonfiarmi ma credo un po' per tutti immaginatevi con pancione annesso e starà difficile anche trovare dei costumi carini che si adattino alle mie nuove forme fisiche perché di mio insomma non mi piacciono già cose tanto aderenti scollate figuratevi in questo periodo comunque conto di andare a maggio quindi nel mese entrante da primark perché voglio fare un bel po' di shopping prima man però non sono quella classica mamma che compra cose proprio prima man cerco anche di comprare cose della linea normale che si adattino al mio corpo quindi di taglie più grandi ma tra l'altro non credo che sia contraddittoria per il discorso che ho fatto sul fast fashion perché la linea prima man cioè questa situazione momentanea che sto vivendo è appunto momentanea quindi non è un investimento che faccio a lungo termine e la soluzione del fast fashion è l'ideale penso per questa situazione e quindi mi concentrerò appunto su primark ed H&M tutti di voi mi hanno parlato di kia b o kia bi non so come si dica e francamente non ci vado spessissimo dovrei vedere anche qualcosa online e considero di farlo successivamente all'appuntamento di lavoro che ho adesso dove devo recarmi farò un salto forse alla conad devo comprare qualcosina per pranzo ho il frigo vuoto dopo queste festività che c'è stato il ponte sapete domenica lunedì e martedì non avevo fatto una spesa così grande perché siamo stati fuori e quindi devo assolutamente comprare qualcosa spero di avervi tenuto compagnia con questo video diverso dal solito un video pulizie una sorta di morning routine che non porto spesso sul canale questo è vero quindi potrei farlo anche più spesso anzi in realtà volevo girare la morning routine aggiornata con pierre vi giuro sarà difficilissimo perché spostare la videocamera impostarla farvi vedere in tempo reale che cosa succede non è affatto facile ci proverò e quello potrebbe essere un video diverso dal solito comunque detto questo se vi va passate a seguirmi anche su instagram li posto tutto in tempo reale vi mando un grandissimo bacio come sempre sempre se vi faccio vediamo in un prossimo video ciao